Ho una notizia. Una vera bombetta su una famosa coppia. Lo scoop riguarda una riete che è in profonda crisi con la sua fidanzata. Chi è? Lo dico. Si tratta di Matteo Berrettini, che è in crisi con Melissa Satta. Mi dicono che c'è crisi e vediamo quindi se arriveranno a San Valentino. Che dici Simon arrivano a San Valentino? Staremo a vedere. A rivelarlo durante una puntata citofonare Rai 2, è stato il giornalista Santo Pirrotta. Esperto di gossip e spettacolo. L'indiscrezione arriva durante il momento dell'oroscopo dell'astrologo Simon Thestars. Che stava appunto mettendo in guardia le persone nate sotto il segno della riete. C'è una decisione in bilico e dei rapporti che si sono fatti più tesi. Sia sul lavoro che in generale. Anche in amore con Venere in quadratura ci sono dubbi e distanza. Un periodo in cui faticate un po'. Il cielo migliora a metà febbraio. La notizia della crisi tra il tennista e la showgirl è stata accolta con stupore dagli ospiti di citofonare Rai 2. Programma pomeridiano condotto da Simona Ventura e Paola Perego. Dopo la bomba lanciata da Santo Pirrotta. L'attrice e comica Valeria Graci ha commentato ironicamente. Io so giocare a tennis. La rivelazione sarebbe stata utile a confermare le difficoltà dei nati sotto il segno della riete elencate dall'astrologo Simon. Ariete è bloccato. Potrebbe esserci una decisione che non riuscite a prendere o dei rapporti che si fanno tesi forse con un capo. Un socio. Un collaboratore. Il pettegolezzo sulla crisi tra Berrettini e Melissa circola da un po' di giorni su social e web. Già Fabrizio Corona sul suo sito di Linger News dava per certa la loro rottura. Non è una voce di corridoio ma un fatto che noi vi possiamo confermare. Sempre sul sito di Corona la loro viene definita una storia mediatica e senza futuro. Il loro amore criticato dai tifosi di Berrettini che giudicavano satta una distrazione è iniziato nel 2023. Sono stati visti per la prima volta insieme in tribuna a Milano per una partita dell'Olimpia. Da quel momento sono iniziate le uscite pubbliche e gli scatti di coppia. Da un po' di tempo i due non si mostrano sui social e c'è chi inizia ad indagare. C'è un motivo per cui Melissa è andata a St. Moritz con le amiche per la sfilata di Moncler? La priorità di Matteo Berrettini è solo quella di lavorare per tornare in campo? Per il momento nessuna conferma o smentita. A sentire gli ospiti di citofonare Rai 2 basta aspettare San Valentino.